Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Come avrete capito dal titolo in questo video vi farò vedere cosa c'è nel telefono di mia madre Allora la transizione che ha è questa qui a libro Questo qui è nella sua modalità perché questo qui non è un iPhone Allora la prima cartella che possiamo trovare è social Dove c'è Whatsapp che è privato Amazon Shopping dove compra certe cose di un tipo Poi c'è Antivirus così si tiene allontana tutti i virus C'è Instagram Se volete seguirla si chiama TheBigFamily862 Non scandalizzatevi Lady Confaia di Pop Non scandalizzatevi Che fa Happy Halloween Poi c'è su social Play Store che serve per prendere tutte le app Poi c'è YouTube Che appunto abbiamo un canale Tutti insieme E questo video ha già 105 visualizzazioni Wow E niente questo qui è il nostro video Del nostro canale Se volete seguirci appunto ci chiamiamo TheBigFamily Family Poi c'è Chrome e Google Poi c'è scuola dove ci sono i registri elettronici dove puoi vedere tutti i nostri voti Yey Poi c'è personale che dato che la chiamata è personale credo che non bisogna farla vedere Poi c'è bloc note dove ha tutti gli appunti perché lei preferisce tenersi le cose scritte ma anche qua io non ve la faccio vedere Poi c'è per guadagnare dove ci sono queste app che le fanno guadagnare soldi C'è Love Bee, Six Continent e Pazzi per le Offerte Poi c'è il tasto aggiungi Poi c'è Diplay Che serve per vedere delle serie tv Ecco è tipo Netflix Però questo qui Con questo qui vedi solamente serie tv E niente Poi c'è iMama perché dato che mia madre è incinta C'è iMama Sapere Potere Che è un'app collegata A un gioco della Playstation E qui ci puoi già anche giocare Cioè se non vuoi collegarti alla Playstation puoi anche giocarci sul telefono E fa il quiz veloce Perché è un gioco a quiz Dove ti fanno delle domande tipo storico Ci sono anche le domande tipo giochi per la play Quindi wow Poi c'è Facebook Lite Perché a mia madre Facebook Quello lì normale Non ci sta sul telefono perché ha la memoria che ha E allora si è presa Facebook Lite Poi c'è SweetCoin Che credo sia una trap per guadagnare soldi Si chiama SweetCoin Poi c'è strumenti dove ha download Meteo Torcia Gestione telefono Radio FM Poste mobile E Il tazzino aggiungi Poi c'è orologio Galleria Dove ha tutte le foto Da un sacco Cioè Dove ha notare bene il numero 174 Si lo so Non sono niente in confronto Poi c'è questa Non è una Però comunque Li fa vedere i video che guarda di più E questi qua Poi c'è cartella 2 Che bel nome Dove c'è calcolatrice Registratore E il tazzino aggiungi Poi c'è impostazioni WAPS Office Temi Dove ha preso questo tema Delle faccine Poi c'è PlayJokey Che l'ha scaricato Perché è collegato a un gioco A cui gioca Che si chiama MyCaffè Adesso l'ha dovuto disinstallare Per motivi Però Praticamente Installandosi PlayJokey Tutti i dati di MyCaffè Questo gioco Sono 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 rimasti su PlayJokey E lei Se si riscarica MyCaffè Può stare dove era prima Poi c'è PlayMusica Maps ICare PlayFilm Che erano già sul telefono Gestione File Poi anche queste qui Sono già sul telefono Poi c'è Duo Che è anche questa qui Collegata a Google Poi c'è Start Calendario E Backup Poi qui ci sono le ultime tre app Action Director Che li serve per editare i video Perché vi dirò la verità Noi non abbiamo ancora la videocamera E quindi Registramo i video col suo telefono Che ha la telecamera davvero bellissima E poi lei li edita con Action Director Poi c'è Collage Maker Che gli serve per fare le copertine dei video Poi c'è Homepage Option City Che non so che app sia Poi ci sono le ultime quattro in fondo Dove c'è Telefono Contatti Videocamera Che adoro Perché c'è anche i rallentatori In questa videocamera Anche se non so perché È un Huawei E c'è il rallentatore Poi c'è messaggi Quelli lì normali E niente Questo era il video Spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Iscrivetevi al canale E niente Ciao